ariete tutto quello per cui hai lavorato e sudato negli ultimi mesi oggi porterà i suoi frutti professionali ed è su questo che devi concentrarti toro quel ruolo tanto inarrivabile oggi potrebbe essere tuo l'hai conquistato sul campo con il supporto di tutti i colleghi l'unione fa la forza gemelli giornata di cambiamenti e scelte la famiglia oggi sarà al centro dei tuoi pensieri e del tuo sentire cancro qualcosa sta per prendere forma ed oggi controllare la tua situazione finanziaria sarà un modo per cominciare a sognare leone se il lavoro oggi può attendere il tuo corpo e la tua salute hanno bisogno di buoni propositi e tanto tanto sport vergine giornata intensa ma piena d'amore per chi come te tante volte è limitato dalla timidezza passione a fiumi bilancia quando ti sembrerà che il lavoro cui hai dedicato tanta fatica sia definitivamente perso accadrà qualcosa che farà accendere una lampadina ed il peggio sarà scongiurato scorpione l'amore o la voglia di innamorarsi o comunque la sensibilità all'altro c'è quindi sul fronte emotivo venere saprà come risollevare il tuo umore sagittario a fine giornata sarei forse un po stanco certo ma che soddisfazioni il tuo impegno riceverà finalmente il riconoscimento che merita capricorno non puoi più aspettare oggi devi fare qualcosa per te e per la salute del tuo corpo sai bene che rimandi da troppo troppo tempo acquario troppo concentrato sul lavoro guadagni impegni scadenze e per tutto il resto non rimane tempo pesci sarà una giornata così piena ed intensa che in serata sarai letteralmente ko non potrai sottratti quasi a nulla calma